Ottava edizione per il Siloe Film Festival, l'iniziativa culturale promossa ormai da alcuni anni dal Centro Culturale San Benedetto presso il Monastero di Siloe con la direzione artistica dell'attore e regista Fabio Sonzogni e la collaborazione di Fondazione Comunicazione e Cultura e Fondazione Ente dello Spettacolo. Il festival torna dopo un anno di interruzione causata dalla pandemia con una edizione che si svolgerà per lo più al Cinema Stella e solo in piccola parte presso il Monastero di Siloe a Poggi del Sasso. L'appuntamento è fissato dal 23 al 25 luglio. Ma quali sono le pellicole in concorso? Sono 12 scelte tra i 6.000 opere che sono arrivate da tutto il mondo. La particolarità delle pellicole è che sono per la maggior parte internazionali. Come al solito ci saranno dibattiti con personaggi di spicco come Gerardo Colombo e Giovanni Maria Flick, Tommaso Montanari, Umberto Curi e Alberto Castaldini che tratteranno il male in vari ambiti, giustizia, arte, antropologia, teologia, letteratura, filosofia e psichè. Tre i premi. Il primo sarà scelto dalla giuria di esperti. Il presidente sarà sempre Umberto Curi, così come è stato per tutti questi anni. Poi ci sarà il premio a cui tengo di più che è il premio della giuria giovani. Un futuro comunque ancora da costruire per quanto riguarda il Siloe Film Festival. Il prossimo anno intenderemo cambiare per spalmare questo evento nel corso dell'anno. non solo proiezioni cinematografiche ma anche incontri, dibattiti.